La pandemia ha sconvolto completamente la maniera di lavorare negli uffici e per le scuole ha ridefinito la didattica. Ci siamo impadroniti di nuovi termini quali smart working e DAD. Ora, nel momento in cui le restrizioni sono rientrate, è interessante analizzare i dati di questa rivoluzione e soprattutto verificare se in questo contesto esistono delle discriminazioni derivanti del territorio o dalle politiche regionali adottate e verificare quali regioni hanno garantito meglio la didattica distanza. Fra le regioni che hanno destinato all'istruzione una percentuale di PIL sopra la media troviamo tre regioni del sud, la Calabria, la Sicilia e la Campania. Non tutte le regioni quindi hanno dedicato le stesse somme per la digitalizzazione delle scuole. In questa indagine si evidenzia in maniera chiara le difficoltà della nostra regione. Fallanino di coda, insieme al Friuli Venezia Giulia, a causa della bassa velocità di internet su banda larga e della bassa cifra dedicata alla digitalizzazione delle scuole, 1,24 milioni per il Friuli Venezia Giulia e 0,5 milioni per il Molise. La regione che si è mostrata più preparata a far fronte alla necessità della DAD è stata proprio la Campania, dove nonostante la percentuale di abitazioni che dispongono di un computer sia relativamente sotto la media nazionale, la regione ha sopperito con investimenti per più di 8 milioni di euro nella digitalizzazione dell'istruzione. Utile riportare anche i dati Istat di quel che i ragazzi pensano della didattica a distanza. Gli alunni delle scuole secondarie bocciano la didattica a distanza. Il 67,7% degli studenti preferisce le lezioni in presenza. Il 70,2% di giovani trova più faticoso seguire la didattica a distanza. Certo, il Covid è stato lo spartiacque per la rivoluzione epocale, che lascerà il segno per il futuro e determinerà il nostro modo di approcciare con il mondo digitale.